Rai di furti nella notte scorsa con bottini magri, presi di mira i bar di due distributori di benzina a Fano. Sono da poco passate le due ed il primo ad essere visitato è quello nel distributore Total Erg di Via Papiria, tutto registrato dalle videocamere di sorveglianza. Si vedono che sono quattro persone, i capucciati, con giacchettina metamanica pesanti, invernali e con felpe sotto con capuccio. Questa è la via d'accesso utilizzata dai ladri, hanno aperto questo foro nella rete alle spalle del distributore, si sono introdotti qui attraverso un campo che c'è proprio qui alle spalle, c'è una casa abbandonata, si vedono ancora le impronte lasciate dalle loro scarpe che proviengono proprio dalla casa, sono entrati qui, c'è proprio tutto il calpestio fino al buco che hanno effettuato e poi sempre le tracce che hanno lasciato sul terreno indicano che se ne sono andati nella direzione opposta da dove sono arrivati, verso la strada che c'è più avanti. Dopo aver distrutto il sensore ed una colonnina dell'alimentazione, tentano di sfondare il muro nel retro a colpi di mazza, ma appena i nebbiogeni entrano in azione coprono il buco con una lastra di metallo e ripuliscono accuratamente nel tentativo di eludere la sorveglianza e finire il lavoro dopo. Ma ormai l'allarme è scattato ed esistono, andandosene a mani vuote. Il danno c'è perché il muro è rotto, l'allarme è rotta, la cabina dell'elettricità è rotta, la rete è rotta, i danni ci sono. E non è la prima volta che vengono qui da te? Allora, da quanto io sono gestore questa è la prima volta. E prima ero peraio sempre qui, però è già con questa qua e sono sei volte in giro di cinque anni. Poco dopo, sono le 13 e 15 e le telecamere di sorveglianza del bar-ristorante Cicogne di Via Einaudi nella zona industriale di Bellocchi riprendono tre uomini che sfondano il vetro blindato, anche qui a colpi di mazza, e mentre due aspettano all'esterno, uno entra dentro il locale, ma anche qui i nebbiogeni sono in azione e il loro tentativo di furto è un vero blitz, come ci dicono i titolari, durata totale 18 secondi, giusto il tempo di arraffare qualche grattino e qualche stecca di sigaretta e scappare con un'auto parcheggiata poco distante. Una brutta sorpresa, qui ogni tanto siamo abituati, stamattina è stato peggio del solito. Hanno portato via qualcosa? Sono riusciti ad entrare, però fortunatamente abbiamo un buon sistema d'allarme e quindi siamo riusciti a evitare che ci portassero via un po' di cose, però i danni ce li abbiamo avuti, purtroppo. Quindi non hanno portato via il fondo caso? Sì, ma fondamentalmente poche cose, qualche grattevinci, hanno rovesciato un po' le cose e via. Hanno provato ad entrare, ma finalmente, per nostra sfortuna, stamattina abbiamo avuto anche i danni. Sì, ci sono camere, certamente, hanno ripreso e abbiamo visto come hanno svolto tutta l'azione. Entrambi i locali sono stati più volte visitati dai ladri, ma questa volta i sistemi passivi di protezione hanno fatto il loro dovere, limitando i danni alle sole strutture. Le immagini delle videocamere sono al vaglio dei carabinieri di Fano che indagano su entrambi gli episodi.